e poi qui ci metto gli ogre qui ci saranno le terre degli elfi poi qua c'è la città dei nani qua ci sono gli orchi che cavalcano i tirannosauri poi ovviamente ho voluto mettere una comunità degli halfling ma è una comunità di recupero poi visto che lì c'è la rotta commerciale principale verso il grande impero d'oriente qua ci mettiamo una città dell'impero d'oriente e naturalmente qua in fondo alla montagna ci mettiamo i tirannosauri che cavalcano gli orchi sì, allora sì sì, quello ascolta non è che adesso me li ridici esattamente nell'ordine in cui me li hai detti? quando un master crea la sua ambientazione ha libertà assoluta e può metterci tutto quello che vuole gli unici limiti sono la fantasia dei giocatori nel gioco di ruolo puoi scatenare la tua fantasia e fare tutto quello che ti piace potrei andare avanti un'altra mezz'ora ma credo che oramai ci siamo capiti queste frasi ce le siamo sentite dire tutti e continuiamo a ripeterle tra di noi soprattutto quando incontriamo qualcuno che si sta avvicinando per la prima volta al gioco di ruolo ma nonostante nella pratica siano formalmente vere non sono di certo il miglior modo con cui ci si possa approcciare una quest soprattutto se si è un master alle prime armi sicuramente avere la massima libertà di scelta quando ci si approccia alla creazione di un personaggio anche un'intera quest è sempre una cosa positiva e il master dovrebbe sempre cercare di avere meno limiti possibili nell'eseguire quella che è la propria agenda creativa detta in parole povere un master non dovrebbe mai dover togliere qualcosa da una quest perché non può mettercelo dentro non porsi però alcun limite nella scrittura della quest potrebbe rivelarsi molto più deleterio di quello che non sembra inserire un sacco di roba all'interno della propria trama più troppe possibili più personaggi possibili più ambienti, luoghi e situazioni possibili potrebbe sembrare un modo per trovare sempre qualcosa che possa attirare i giocatori in casi del genere si dice che più cose si tirano contro il muro più è facile che qualcosa ci rimanga appiccicato nella pratica però questo voler dire che per ogni cosa che piacerà a un giocatore avete inserito una decina di cose che non gli piaceranno e probabilmente non piaceranno neanche agli altri non solo non avete aumentato l'attenzione dei vostri giocatori ma anzi probabilmente avete reso la quest molto meno interessante per tutti loro soprattutto quando si mastera per un nuovo gruppo magari di persone con cui non siete intimi nella vita persone che non conoscete magari un gruppo e sei radunato nella vostra associazione o gente trovata su internet per un gruppo di gioco online la tentazione di buttarci dentro più roba possibile nella speranza che qualcosa funzioni è molto forte però come detto per ogni cosa che uno dei giocatori troverà interessante ce ne saranno 10 che nessuno troverà magari potrebbe anche essere il contrario potrebbero trovare altrettante cose disturbanti in quello che avete inserito magari uno dei giocatori sarà molto interessato alla trama politica che avete inserito ma non sarà affatto interessato dai combattimenti né della trama romantica e magari sarà seriamente infastidito dal png che avete inserito come momento comico al contrario ci sarà quello che sarà incredibilmente entusiasta del vostro momento comico ma non ha alcuna intenzione di avere a che fare con una trama politica perché la ritiene noiosa nella pratica la vostra quest non sarà una quest che piace a tutti ma sarà una quest che tutti trovano principalmente mediocre in questi casi è sempre meglio concentrarsi su un singolo argomento o che sia stato deciso da tutti quanti assieme prima di cominciare a preparare la quest o se la quest l'avete già pronta e volete mettere in pratica un'idea che avete avuto piuttosto radunate molte più persone dite chiaramente di che cosa andrà a parlare la quest e poi organizzate il gruppo con solo quelli che tra loro si sono effettivamente dimostrati interessati a giocare quel tipo di quest concentrarsi su meno elementi vi permetterà anche di dettagliare molto di più ognuno di questi singoli elementi se avete preparato un'ambientazione che prevede ci siano 15 città su 10 pianeti abitati da 30 razze diverse con 15 possibili varianti di classe e metteteci tutto il resto che volete è molto probabile che tutte quelle città non saranno poi così diverse l'una dall'altra e molto probabilmente pochissime saranno effettivamente descritte in maniera dettagliata molto probabilmente anche le vostre 50 razze per lo più ricaderanno o nel cliché o nello stereotipo con gli orchi sono violenti, gli elfi sono belli e i nani sono tirchi e comunque è probabile che voi abbiate impegnato un sacco di tempo per svilupparle con dettagli molto rozzi ma che comunque tutto questo non appaia mai in quest delle 100 città che avete previsto probabilmente i giocatori ne desideranno una decina, 20 e delle 50 razze aliene probabilmente avranno rapporti con 7-8 le altre appaieranno più che altro come un cameo fareste molto meglio a concentrarvi solo su 5 città e 4 razze ma dettagliare molto bene ognuna di loro dando ogni città magari una mappa dei quartieri una storia, una sua particolare economia, politica, società, tutto quello che volete la stessa cosa è meglio avere tre razze molto particolareggiate con delle tradizioni molto forti che aiutino i giocatori a immedesimarsi e lasciare il resto della mappa non dico del tutto vuoto ma meramente accennato per quello che vi serva e poi magari andandolo a sviluppare di volta in volta quando vi servirà effettivamente che entri in gioco per un motivo sviluppando poche zone ma molto dettagliatamente aiuterete moltissimo i giocatori non solo a immergersi nella lingua nella cultura dell'ambiente in cui si svolge la quest o nei temi di cui la quest deve parlare ma gli aiuterà anche proprio a un processo di immedesimazione e per cui anche elementi della quest che magari sarebbero banali verranno comunque accettati molto meglio dal party perché questo livello di dettaglio ha causato un reale interesse da parte loro nell'ambientazione lo stesso discorso si può fare anche per i png invece di concentrarvi a buttare nei dettagli il retroscena e la cultura di ogni singola razza e poi rendere tutti i png di quella particolare razza degli stereotipi il classico scrivere 10 pagine sulle origini e la cultura degli orchi per poi avere tutti i personaggi orchi che sono esattamente lo stampo l'uno dell'altro piuttosto lasciate nel vago le origini e la mitologia o quello che è della razza ma concentratevi sul rendere i 5 o 6 png di quella razza ognuno un individuo a se stante ognuno con una motivazione specifica ognuno facilmente riconoscibile dai giocatori io difficilmente parlo ai giocatori i miei video sono sempre rivolti ai master ma in questo caso il consiglio vale anche per loro è sicuramente bello che voi vi concentrate nel dettagliare la storia e la mitologia che c'è dietro le origini del vostro personaggio soprattutto se appartiene a una razza strana una razza non umana magari il classico draw che si è allontanato dalla sua comunità e quindi può dare quel sapore etnico esplorare anche la cultura del personaggio inumano però fate sempre conto che quello su cui dovete concentrarvi è chi è il vostro personaggio e cosa fa lì ora in quella storia la sua mitologia è soltanto un sovrappiù in linea generale anche per i personaggi valgono grossomodo le stesse regole se il vostro master vi è chiesto un retroscena del vostro personaggio o voi volete divertirvi a scrivere una storia, un background per quel personaggio non riempitelo di fatti ed eventi banali andando a dettagliare ogni singolo giorno nella sua vita, ogni sua relazione e ogni suo pensiero concentratevi su 5 o 6 fatti fondamentali nella sua vita e su come questi fatti fondamentali vadano a influenzare il personaggio in quello specifico momento della trama diciamo che per questo video è tutto diciamo che questa volta volevo fare più che altro delle considerazioni di carattere generale non prendetele come regole specifiche di masteraggio diciamo che la morale della favola è fate meno ma fate meglio comunque voglio sapere cosa ne pensate voi se anche voi seguite questa filosofia se voi andate nell'ultra realismo e nell'iper dettagliato se invece avete dei metodi per deviare totalmente l'attenzione quindi i vostri giocatori non si interessano assolutamente di queste cose ma fate altro scrivete tutto nei commenti qui sotto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale schiacciate il tasto della campanella se non volete perdervi i prossimi video io sono il Master Kai noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao